Quante volte si è rotto qualcosa ma non si trova l'utensile della misura giusta? È una 6 o una 7 mm? Che confusione! Quello che ti serve è Red Dog, l'incredibile chiave a bussola universale che si adatta, afferra e stringe qualsiasi elemento di fissaggio. Con ECL Shop hai la tua occasione per averne uno, ad un prezzo esclusivo. C'è una notizia bomba! Se chiami e ordini ora il secondo Red Dog, lo riceverai completamente gratis! Esatto! Solo con ECL Shop ne ordini uno alla metà del prezzo di mercato e ne ricevi due! Non scegliere tra le imitazioni in vendita sul web di scarsa qualità. Scegli l'unico, originale e fantastico Red Dog di ECL Shop. Chiama ora o ordina online su www.eclshop.tv Guarda le diverse dimensioni e forme, dadi, bulloni e viti. Qualsiasi testa va bene! Red Dog fa presa saldamente e si blocca subito. Sostituisce centinaia di utensili diversi, ma è più piccolo di una batteria. Guarda qui, 54 perni telescopici in acciaio. Si modellano intorno a qualsiasi forma. La coppia di serraggio fino a 70 kg elimina gli elementi di fissaggio arrugginiti. Collega l'adattatore deluxe per trapano e conficca le viti nel cemento con facilità. O installa un gancio per i fiori senza usare le mani. Non lasciare che un progetto ostinato ti rovini la giornata. Red Dog fa presa subito! Affronta i lavori più difficili con precisione e velocità professionale grazie a Red Dog. Si adatta ai dispositivi di fissaggio grandi e ai più piccoli per afferrarli tutti. Niente più scatole di attrezzi pesanti o dubbi sulla misura da usare. Con Red Dog non devi più cercare o indovinare quale utensile utilizzare. Per questo progetto si potrebbero usare tantissimi attrezzi diversi, ma noi l'abbiamo fatto in modo semplice e veloce. Solo con Red Dog è fantastico! Puoi spendere più di 100 euro per un set di attrezzi, oppure puoi acquistare l'incredibile Red Dog per il prezzo scontato del 50% che vedi ora sullo schermo. Ma aspetta! C'è una notizia bomba! Se chiami e ordini ora il secondo Red Dog, lo riceverai completamente gratis! Esatto! Solo con ECL Shop ne ordini uno alla metà del prezzo di mercato e ne ricevi due! Semplifica la tua vita ordinando il tuo Red Dog, ma devi farlo in fretta! Le scorte sono limitate! Approfitta subito di questa offerta speciale di ECL Shop! Non scegliere tra le imitazioni in vendita sul web di scarsa qualità! Scegli l'unico, originale e fantastico Red Dog di ECL Shop! Chiama ora o ordina online su www.eclshop.tv